Ciao a tutti, come state? Io sono felicissima di essere qui oggi perché vi sto per parlare dei nuovi web in this. Ancora non sai cosa sono? Sono delle visite guidate virtuali che si svolgono sulla piattaforma Zoom con una guida e un interprete della lingua dei segni italiana, dove parleremo di arte, cultura, dove faremo dei veri e propri viaggi all'interno del nostro bellissimo paese e scopriremo personaggi famosi dell'antichità e anche odierni, scopriremo di storia, di leggende, insomma sono degli eventi imperdibili che ormai portiamo avanti da quasi un anno proprio perché hanno avuto un grandissimo successo. Ebbene abbiamo pensato per voi a nuovi dieci incontri che si svolgeranno da gennaio a giugno e visto che siamo vicino alle vacanze abbiamo pensato ad una promozione natalizia. Infatti questi dieci incontri avranno il costo scontato di 40 euro. 40 euro per sei mesi insieme a noi con visite guidate. Cosa aspetti? Per ulteriore informazioni ci puoi iscrivere sul nostro sito www.radiciaps.it ma soprattutto puoi acquistare e regalare i webbillis per Natale. Ciao!